adri dov'è l'abitatore in bagno nell'armadietto dei medicinali ma perché cavolo non ho voglia di discutere ehi crap che vuoi non è che mi faresti la colazione no maria io esco anzi il rispetto di crepe per evitare di rompere anche il frigo oggi farò a meno della colazione così crepe capirà quanto sono responsabile e per aiutarlo darò anche una ripulita alla stanza di accio o mio zangio chi mi ha chiamato per nome la vecchietta delle caldarroste in via santa genoveffa al civico 22 non può veramente averci creduto forse è meglio che vado a dare una scopata alle foglie ma che o no ma che cavolo sta facendo iscriviti al canale